ok ciao ragazzi oggi parliamo della fotocamera su mi 8 light pregi e difetti più pregi che difetti ha un'ottima fotocamera frontali e una ottima anche fotocamera posteriore andiamo a vedere nel dettaglio la cosa mi 8 light ha una due camera posteriore da 12 megapixel più 5 per effetto bokeh e quindi l'effetto con la sfocatura di sfondo fa delle foto veramente belle la vera forza di questo telefono è sicuramente la fotocamera frontale da 24 megapixel con la possibilità di avere l'intelligenza artificiale quindi come impostazione e la crd le foto in modalità selfie sono veramente di qualità eccelsa allora la fotocamera di mi 8 light è veramente una buona fotocamera la posso paragonare a quella di redmi note 6 a livello qualitativo stiamo parlando della fotocamera non quella da selfie quindi la fotocamera normale diciamo la possibilità di avere l'intelligenza l'intelligenza artificiale e la hdr permettono di fare fotografie di qualità molto elevata stiamo parlando di un telefono comunque che ha un prezzo in uscita di 200 e rotti euro cioè voglio dire insomma questa è la qualità zoomata come vedete è veramente bella la modalità ritratto quindi con l'effetto bokeh e nella sfocatura sullo sfondo mi 8 light fa delle fotografie veramente belle e di ottima qualità ripeto io mi permetto guardate i colori e se apro e zoom guardate che bella che bella che è la fotografia cioè siamo a livelli veramente alti stiamo parlando di un telefono da 250 euro quindi merita veramente il merita veramente un telefono che merita quello che si spera merita i soldi che lo paghi e c'è una proporzione qualità prezzo che altre case non riescono a dare il vero punto di forza di mi 8 light è sicuramente la fotocamera frontale quindi quella per i selfie 24.000 megapixel e con una sola fotocamera riesce a offrire comunque la sfocatura di sfondo e la modalità ritratto di altissima qualità un telefono che offre una risoluzione in video quindi 4k 30 fps o se no se preferite potete anche impostarlo a full hd 1080 60 fps quindi un'ottima risoluzione video slow motion oltre ad avere lo slow motion anche l'effetto beautiful che migliora visibilmente il video e il time lapse per fare chiaramente i video velocizzati per concludere se sei un amante della qualità e prezzo quindi che ci dove ci deve essere una giusta proporzione e non vuoi spendere 1000 euro per un telefono mi 8 light è il telefono giusto per te soprattutto se sei un amante delle fotografie qualità prezzo risultato fotografico in questo momento sul mercato secondo me secondo me ripeto sicuramente qualcuno avrà da ridire su questa cosa che sto dicendo non c'è niente di paragonabile non c'è proprio niente qualità prezzo e livello fotografico e video detto questo ti saluto ci vediamo al prossimo video